Cattedrale Gremita per l'ultimo saluto a Gianfranco Duranti e fondatore e direttore storico dell'emittente Teletruria. Dalle istituzioni ai colleghi di una vita a tanti aretini che lo hanno conosciuto, nessuno è voluto mancare nel giorno dell'addio a Gianfranco Duranti. Vero e proprio pioniere dell'emittenza locale è stato alla guida dell'emittente per oltre 40 anni. Con il suo impegno e la sua professionalità ha attraversato tutti i cambiamenti epocali del mondo televisivo, dalla trasmissione via cavo fino alla rivoluzione del digitale terrestre. Ha guidato Teletruria e tutti i suoi giornalisti e collaboratori, avendo sempre di fronte lo scopo e il ruolo che deve avere un emittente locale. Leale con il rapporto con la nostra emittente per tante questioni comuni, per le quali non ha mai risparmiato consigli sinceri. Gianfranco lascia la moglie Elena e il figlio Andrea alla famiglia, la redazione di Teletruria alle più sentite condoglianze da parte di Arezzo TV.